per disegnare all'interno dei riquadri di disegno già predisposti nel documento basta cliccare su di essi per esempio su questo aspettare che si apre il disegno aspettare poi che tutta questa barra di strumenti diventi clicabile illuminata c'è da aspettare un po ecco appena i comandi sono utilizzabili del disegno si sceglie la linea si clicca sulla linea accanto della freccia alla freccia e poi si cominciano a tracciare le linee oblique e costruire le catene della struttura del scheletro scheletrica degli atomi di carbonio e così in modo da disegnare le molecole nella maniera più semplice una volta fatto si clicca su salva e chiudi ora il nuovo disegno è stato inserito nel documento grazie a tutti grazie a tutti